Oh mio Dio Eh 1v1 Mr.Cif hai preso il cazzo eh Eh 1v1 sono più forte Astruzzo Dormi tutte le volte Mamma mia che cazzo che si è preso questo Amici miei buongiorno come state? Cosa assurda siamo in live proprio in questo momento Sul canale Viola, su Twitch Vi lascio il link in descrizione per venire a seguire la live proprio ora Now in questo preciso istante E altra cosa ragazzi ma non vedete che qua ci sono molti più non iscritti che si guardano in video Quindi vi dovete iscrivere Perché non è possibile che facciamo più visualizzazioni dei video degli iscritti che abbiamo E' inamissibile Per quelli che non mi conoscono ho anche un altro canale Dove ho pochi iscritti Vediamo se indovinate quanti iscritti ho nei commenti nel secondo canale Cioè nel primo canale Oggi siamo qui signori perché Nuovo aggiornamento di min-season Hanno fatto una cifra di cose In realtà questo gameplay che vedrete va a cambiare Cioè non cambia nulla E' un gameplay fatto pre-aggiornamento Ma fondamentalmente quello che hanno fatto non cambia nulla A parte due cose che adesso vi voglio dare all'anencare Le armi che vedrete in questo video sono le solite Il solito Aug Farra Che è devastante Questo è l'augo che ho utilizzato in questo video Che cosa hanno fatto con l'aggiornamento? Nulla Cioè le hanno aumentato il rinculo Se sei da computer è gestibilissimo Questa ragazzi è la classe più forte che al momento potete utilizzare ancora Anche con questo meta Ve lo faccio vedere silenziatori agency Solito Canna strike team Non mettete la titanium Anzi mettetevela Se volete fare schifo mettete la titanium Mettetevela Quelli invece che sanno un po' come funziona il gioco Anche se non vi dà la velocità proiettili La titanium è una canna che vi dà anche velocità proiettili Quindi il proiettili Arriva subito C'è anche la task force che vi dà un po' di bullet velocity Però No E vi dà però Vi dà anche un po' È ancora meno controllabile Anche perché l'hanno effettivamente nerfato il rinculo Ok? Quindi è un po' meno controllabile Però se siete da computer Bene o male è sempre la stessa cosa Più o meno Dopodiché è il solito Axia Rams Field agent Per controllare il rinculo Si può usare anche la sfod Però in realtà cambia poco Onestamente L'ho provata su tutte e due È uguale ragazzi Non cambia assolutamente niente Ma Mi raccomando Nell'ahog Non mi mettete il caricatore rapido 45 colpi ed altre cose Ragazzi Allora dovete leggere come funziona Il caricatore a tamburo Sebbene vi abbia la ricarica dell'arma più lenta rispetto a che ne so questo 45 colpi Ma quello che vi importa a voi è che la mira cioè il tempo di ads sia più basso Ok? Quindi il 45 colpi ha la ricarica più lenta un po' più lenta Però ha l'ads quindi il tempo di mira più basso Ok? Rispetto al caricatore veloce Questo qua è il caricatore che bisogna usare Questa è la classe dell'ahog È stato leggermente nerfato il rinculo Però è ancora abbastanza easy da controllare L'altra arma che ho utilizzato è il far Che anche in questo aggiornamento non l'hanno praticamente toccato In realtà ni Nel senso che cosa gli hanno fatto nell'ultimo aggiornamento Riassumendo in maniera estrema Lo hanno leggermente rallentato Perché adesso quando voi ad esempio andate a mettere la takedown La takedown non vi dà più velocità proiettili Quindi la takedown era la canna migliore da accompagnare ad esempio Da usare come secondaria Quindi adesso probabilmente ritornerei meta O il ranger utilizzare come arma secondaria Oppure di nuovo la rinforzata pesante Che vi dà anche velocità proiettili Porta danni effettivi In realtà è da capire quale sarà la prossima canna a utilizzare Se dovete utilizzarla come SMG Devo testarla In questo video ho usato la canna rinforzata pesante Che hanno leggermente nerfato Un po' tutte le canne le hanno nerfate Al far praticamente le hanno tolto un po' di mobilità Il far ha troppa mobility fondamentalmente Ok? Quindi a tutte le canne gli hanno aggiunto un po' di pesantezza Tra virgolette Quindi adesso bisogna capire quale sarà la nuova canna da utilizzare Da usare come SMG Perché comunque di base la rinforzata pesante Se l'accompagnate con lo sniper va molto bene ancora Poi ho tolto, avevo tolto il calcio Perché adesso sto provando Tanto la fettuccia speed Al di là del, come vi dicevo l'altra volta Questo far rimane fermo Soprattutto adesso l'hanno rallentato Se avete difficoltà a tenerlo Adesso forse è ancora un po' più È forse più semplice adesso Avete meno movement Quindi magari è un po' meno SMG friendly Però è ancora molto valido rispetto a tutti le altre SMG Questa è la classe ragazzi Questa è la classe delle 70 bombe 71 non mi ricordo quanti erano Che dire, proprio un bel aggiornamento del cazzo Vi lascio al video Buone qua c'era un tizio Che cazzo è che è morto? Ah è jack7 È mio, è mio questo Non sarà mai vostro Vieni qua, a stronzo È mio, ti faccio vedere il sapore che ha un far metallico Vieni qua Vieni qua Ah te l'hai inculato Godo Madonna che stilata ragazzi Sono proprio entrato in phase Ciro 2009 È morto Lo faccio io Lo faccio io Perfetto Poi comunque sono gusti Poi comunque sono gusti Stai a casa Stai a me la vuole Stai a me la vuole Che cazzo Che cazzo Oh jack7 Stai a me la vuole Ma guarda Claudio Claudio è proprio un maiale proprio Faze Pino è rosso ragazzi Faze Pino è rosso ragazzi Lo vedo No è successo, è sbaglio Bomb Dietro al cazzo Terra Terra Terra, pezzo di culo A terra La banda degli ubriachi ragazzi La banda degli ubriachi Caricato uno ragazzi Caricato uno Qua sopra Qua sopra Un altro Un altro Un altro Mi preoccupate Vado tutto io Vado tutto io Mi selfo io Mi selfo Mi selfo io Ha stonato Ha stonato anche me Sotto di me Sotto di me Arriva Ragazzi abbiamo toglierci Dobbiamo toglierci da qua in mezzo Ragazzi abbiamo toglierci Da qua Dobbiamo toglierci Sono troppi Sono troppi No ragazzi è troppo casino Ho io ho paura Ho paura Ho paura Non sto capendo letteralmente un cazzo Prendiamo l'elicottero Oh Da la casetta ragazzi Casetta qua Casetta con il pietro Non mi fa Quanto può fa È morto È già morto Dov'è Uno dietro Anche dietro Dietro Babanau Babanau Che cazzo vuol dire Babanau Madonna ragazzi Però Il ricotto L'altro ricotto Mi hanno distrutto Raga Siamo un po' troppo cattivi Però Dai 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 No Where is this guy? È sceso tutto papà Sceso? Sotto di me? Sotto di me? Arrestato? L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Quell'altro mi sa che è rimasto sopra Non l'ho confermato Sono un coglione Sì papà sono imbecille Un coglione con i piedi Porco due Madonna santa Infatti sta sopra E' un po' spread di stormi tutte le volte Mamma mia Che cazzo che si è preso questo Mamma mia Oh mio dio Credo di andarmi a ma Era la brucia Con silenzio 50 È passato a sinistra Tipo qui? Tu non te lo vedo Qua dentro papà 39 metri Sì sì 39 metri E' qua close Claudio 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 30 metri Bravo Claudio Buttati Sotto di me Cioè tu pensa Atterrare E morire subito Dai scendi Non c'è nulla Solo Saldi Fate saldi Fate uova Non vedo niente Sono accecato Ragazzi noi mi siamo fatti un team Io papone Fate uova Ok ora sono finiti Una cosa Diciamo bella Tra virgolette Che ti dà Una cosa bella Che ti dà Eh ma ragazzi Ma sta arma Puoi anche fare Giust chat Mentre spari con l'aug Ma che cazzo di arma è Ragazzi io ho line bot oggi Mi dovete aiutare Ne ho atterrato uno C'ho line bot ragazzi Per giudere Quello è atterrato? Quello C'è l'altro sopra Sopra banca Sopra banca Ragazzi mi stanno distruggendo Sopra banca Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Eh 1v1 Mister Cifo Hai preso il cazzo Eh 1v1 Sono più forte Astruzzo Con il pomodoro Viva Fatto io Candy Non mi preoccupare Stavo alpino Stavo alpino Davanti C'è chi no Da sotto Visto È entrato dentro Lo visto Lo visto Lo visto Vado 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 Audio Arrivo guys Questo è Vincent van Gogh Ragazzi Questo non aveva un orecchio Mi sembra No non ci posso credo Campeno Noo Craccato uno È knockato uno È crackato l'altro Ragazzi restiamo Claudio Restiamo Jack settimo C'è mano Ripuritore Uno a sinistra Chiuso Toccato Finiti Quattro Stresato Siamo 4v1 ragazzi 4v1 Lascereste per favore Quanto fai Vapone Mica 30 bombe Vai Ragazzi ma sta partita Abbiamo fatto Quanti chi sono 30 Porco 2 Abbiamo fraggato Un botto qua Sessanta Sette Settanta Non so Non so Contare Io ho Levate I pugni Oddio Oddio Gli era fatta Gli era fatta Oh Giuseppe Oh C'è Chi Chi Chi